Il gruppo dell'Armonia è nato così, è nato durante che si facevano le feste a mare, fra amici. Cioè non c'era una cosa di professionismo, cioè noi facciamo altri mestieri, diciamo, siamo pensionati. Mi chiamano gli cristiani, diciamo, insomma. Siccome le persone vedevano che era una cosa, diciamo, buona a parte di noi, allora abbiamo messo il nome, il gruppo dell'Armonia. Grazie a tutti.